un milione di ore al giorno capite cos'era l'oelo ragazzi chi aveva prego chi aveva ragione ragazzi prego dottori ma ora sapete cosa mi sfira bright moon che non c'è più bright moon licenziato al suo posto pull laser prenderà parte al parlare dei dev update a parlare con classe guardate pull laser è pronto l'eroe asiatico che ci serviva hey folks i'm andrey also known as medla hey everyone i'm pew we made the sottotitoli who sete content aka pewpew lasers today is may 28th and we've just returned to la from china for msi before we start we wanted to give a big congratulations to genji for securing the win and another world slot for the lck una plaza genji per la vittoria incredibile delle messai e tireranno dritto anche al mondiale dopo aver vinto l'ennissimo split in corea in addition to the usual game discussion we've also got some updates about esports incredibile update 40 minuti fa è uscito update sull'esport dopo 20.000 anni godo we've also got some updates about esports bravi a new executive producer for league and a bit about arcane season 2 which is coming at the end of this year let's start though with what's going on in the game first we want to give a little update on champions well mainly that there isn't a big update it's around the time of year when we usually publish a champion road map but because we shared a lot during season start we won't be doing champion road maps that's it they're not going away but we're going to reevaluate how we do them and probably fold them into debuff we do want to talk a little bit about malphite though sii grazie grazie vi amo vi amo malphite! malphite! una grafica aggiornata per malphite! straordinario! oh sha! aggiornano malphite graficamente! let's go! it was earlier this year malphite's visual update is an experimental approach on our own è un approccio sperimentale league's got a really large roster of champions and we felt that the gradual way we did jax's update landed really well so we want to keep experimenting with this method of development what we're testing first with malphite is how efficiently we can take some of the updated visuals from wild rift and redo them so that they work in league of legends the skins catalog between the two games aren't exactly the same we hope that this is going to prove to be in a way that we can accelerate visual improvements into league now we don't have a timeline on when or even if malphite's new visuals will come to league but if this is something that works out well we're going to look to do this with additional champions in the future too separately we'd also like to talk about spirit of hearth home for a moment this minigame has been live in the client for a bit now and we'd really love your feedback on it ah no 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 just one in the new ways we're exploring to give more immersive connections into the world and characters of runeterra we'll be taking the learnings from your feedback and incorporating this into our future plans for similar things that we're really excited about for the rest of this year and going into the next now though let's talk a bit about game modes arena's most recent run has been pretty successful so far as a filming players are sticking with this version of arena pretty consistently post launch with more sustained play than previous versions we do still want to see how interest does or doesn't hold up over a longer period of time ah fammi rivedere as a filming players are sticking with this version of arena pretty consistently post launch with more sustained play than previous versions con un gioco più sostenuto ragazzi ditemi voi l'arena com'è sono tutte robe ragazzi che io sono tutte robe ragazzi che io non ho assolutamente non ci ho fatto niente al riguardo non l'ho vista non ci ho giocato io non mi esprimo quando una roba non la conosco quando una roba non la gioco non so com'è ho giocato alla versione di arena dell'anno scorso bella secondo me all'inizio e poi è diventata un po' meta staked su determinate robe noiose e il meta e l'attenzione di quella roba lì ha reso la modalità noiosa ma in generale la modalità in sé è carina per me però per come viene bilanciata poi diventa bad però l'idea se riescono a fixare non è brutta but it's been a really promising run so far we're seeing a lot of discussion around some particular aspects of it things like the cameos the lily pad map frismatic items pic ban and the move to 16 players instead of 8 we're going to share some more in-depth thoughts on all of those and more in a future dev blog and of course we'll continue to make adjustments to arena you know both the content and the systems throughout its run we're also getting really close to releasing our upcoming pbs mode it's called swarm and it can be played co-op or solo it'll come live in july as part of the summer event so you should be seeing it on pba in late june this mode is a pretty big departure from league's core gameplay so maybe i'll actually be kind of good at it the team really wanted to emulate the chill more casual style of bullet heaven survivor games with some resulting in reimagining power changes in this context we recently launched an update to the champion mastery system it's a big step for me it's a big step and it's a big step it's a big step campione visual of the day malphight vabbè 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 dai malphight figo solamente perché io ho un putt debole per malphight ho la roccia solida la frana ok cari chiaro la rigopiano ci sta ok carino arena purtroppo ragazzi io non l'ho non me la sono mai goduta sulla modalità nuova non la potrò fare mastery system non me ne frega niente bravo Come on. Ma guarda. Ma guarda. Quaranta sette mila. Quaranta sette mila. Quaranta sette mila. Since we launched Vanguard four weeks ago. We've banned over 47. Sapete quanti sono qua. Voi dite pochi pochini. 47 mila giocatori scripter e sono tutti i nerdini quelli lì che non hanno un cazzo da fare mattina alla sera. Fate 47 mila. Scripter che giocano dieci. Fai dieci. Dieci game al giorno e non venti. Facciamo che non sono nerd totale. Dieci game al giorno. Quaranta sette mila per dieci. Quanto fa? Al giorno. Quanti game rovinati. 2500 of which we caught in diamond plus level games. The Vanguard has given us. 2500 of which. 2500 sopra il diamante più. Vuol dire diamante e diamante più. Quindi sopra il D4. Non vuol dire master giusto? 470 mila partite. Al giorno. Al giorno. Al giorno. Non totali. 470 mila partite al giorno influenzate. Dali scripter. Che ora non ci sono più? Quentin EtherPets. 270 mila partite. Qua macchina tiò più. Chi aveva ragione ragazzi Stiamo qui Interessanti dati 470.000 Voglio essere chiaro con la gente che mi sta guardando 470.000 Scrivete l'app 470.000 470.000 Minimo Ho fatto un dato su 10 game al giorno 470.000 Partite Partite Player dovevi vedere 9 giocatori influenzati a partita Vabbè vabbè vaffanculo 470.000 al giorno Fermi Di partite Senza contare che il numero deve essere moltiplicato per 9 Vabbè Per i giocatori che sono influenzati in positivo e in negativo Con tra l'altro In Loelo Un milione di account E l'ho visto anche in E mi avete confermato voi che ci sono account che bottano anche in ranked Quindi ecco cos'era Loelo ragazzi Il bello è che la gente sta andando via da League Ora Cioè Io La gente non ci ha mai capito niente Cioè è incredibile League Ad oggi Nel miglior momento degli ultimi 5 anni E la gente sta andando via perché si è rotta le palle Può fare quello che vuole Per carità L'unico problema di League ora È Tutta la merda che ormai si è creata in solo Q Che secondo me Prima o poi viene fixata Perché ora la gente inizia a scendere Sicuramente Quei bani e altre cagate Le robe finiscono La gente che se ne va ora Non capisce un cazzo Se veramente gli piace il gioco Le varie le account bottati Fa sui anche che ci siano meno Smurf Altre partite salvati in Loelo Il volto dell'esport di League Chris e John Video messo 40 minuti fa Finalmente posso vedere le persone Che gestiscono il settore competitivo di LoL Finalmente Finalmente hanno un volto Ma è il goal di Fallout Questo è Paolo Cannone Vecchio Jake Languria Cina Li amo Donna White è lui Allora Io credo ragazzi Onestamente parlando Che sia stato Un grande MSI E che questo formato qua Sia il migliore E sono contento Il migliore Il migliore Il migliore Il migliore Il migliore E' come Il migliore Il migliore Il migliore Per tutte le nostre parti Cosa vuol dire? Tutti i minuti campionati Ho bisogno di capire questa frase Spero che non sia quello In Arabia con i soldi Petrol dollari strani Arabi A me non piace però vabbè Però lì cavoli loro però a me non piace Come scelta però vabbè Immagino che il futuro è in Arabia ragazzi Tutti gli eventi si inizieranno a fare là Quindi suppongo di sì Non lo so perché questo è la lunga termine del nostro sport Cosa vuol dire unificare Cosa vuol dire Che sta succedendo regà Che sta succedendo Che sta succedendo Non sto capendo Non lo sto capendo ragazzi Non lo sto capendo Bello Penso Meno team di merda Ok fermi Mi piace Ok Ok Questo vuol dire Tutte le leghe verranno unite sotto un'unica lega Perché altrimenti l'e-sport non andrà avanti Quanto tempo fa l'ho detto? Non rompete il cazzo Incredibile Questo ragazzi l'avevo sentito su Twitter Questo è fuori È fuori di testa Io sono contento di aver predictato con più di tre anni Di anticipo una roba del genere Sto veramente godendo Perché sono anni che vado a dire sta roba qui E ci sarà un casino all'inizio Che è incredibile Che sarà incredibile E l'Europa? Non ci uniscono con Turchia e Russia Vero? As in America's League The LCS and CBLOL would compete in the North and South America's conferences respectively With those current leagues retaining six of their current teams Plus a team each from the LLA The final slot in each conference would be reserved for promotion and relegation from the tier two system in each conference We believe this provides a clear path to pro And expand players opportunities to compete at the tier one level After these changes there would be five leagues in our tier one ecosystem The Americas, APAC, the LEC Ragazzi aprono Poi... No aspetta Penso di aver capito male LCK and LPL There are more details on these changes in our lol esports.com Ma già uniti con loro Aspetta ragazzi Fermi Non ho capito Una roba ragazzi Quello che arriva... Cioè le minor leagues Rimarrà... Cioè non c'è più il modo... Sì Lo so Non è quello Ma le minor leagues Ho letto prima che ci si può qualificare Ho letto una troiata Fammi risentire Lo spazio finale in ciascuna conferenza Allo terzo e settembre Il secondo livello Lo fanno anche in Europa Solo in America Regas arriva in Europa e è finita Come solo in America Non lo spiegano troppo bene Allora ragazzi Cina, Corea, LEC, America L'APAC sarebbe tutta la roba che hanno detto prima Che uniscono Taiwan, Giappone Tutta la roba lì Ok There are more details on these changes In our lolesports.com article Speaking of international tournaments We are adding a third event To the 2025 calendar That starts with regional play At the start of the year Each of the now five regional leagues Would have a single team qualify For the international event As part of this new tournament in March We'll get to watch the best team From each region play Against every other region In a round robin format Before crowning a champion Through a bracket stage Yeah It's gonna be super exciting We're gonna use this tournament As a way to experiment With different competitive format Allora Non sono un fan Della scelta Di aggiungere un torneo internazionale Non sono un fan Di aggiungere tre tornei internazionali l'anno Perché cala Quanto è prestigioso l'altro Secondo me Tutto il resto Molto interessante For 2025 We'll be using a version Of fearless draft mode In the regional And international Portions of the competition Fearless Is gonna be so cool Yeah Very excited about that Finally With the addition Of this new International tournament We're using this As an opportunity To refine regional split structures Going forward Each region Will open the year With the new tournament Or tournament split And then continue on To two slightly shorter splits Throughout the year Which will end with MSI And a regional championship Respectively Champions from each region Will be crowned At this regional league championship Rather than at the end Of each split And of course The season will culminate As always With worlds Now Before we talk Kane In a moment Molto Molta Molti Molti Più champion Il livello Che andrei a vedere Ovviamente Tenendo in pool Più roba Ovviamente Bisogna vedere Che livello Terrano i giocatori Ma Quando il livello Di tutti Inizia A vacillare Ti richiede Una Perfezione Dopo che Ti rende Tutto Secondo me Più Visivamente Migliore Perché poi Inizi A capire Che un giocatore Sta tirando fuori Quel pick Perché è obbligato Perché magari Siamo al quinto game Di merda E tiri fuori Roba strana E poi è follia Pura Può veramente Aumentare chance Anche probabilmente Di team Al di fuori Del In caso di team Di game close Ok Diciamo quelli Che superano Arrive già al quarto game Si può veramente Andare a pensare A qualcosa di strano Lì Per E riuscire a tirare fuori Qualche game Goloso Anche a team A team più forti Ma in generale Overall Tutta la scena Di tutte le leghe Renderà League of Legends Molto più divertente A vedere Molto più divertente Ho bisogno Di capire Questa roba Delle seconde leghe Che non ho capito E avrei bisogno Veramente di qualcuno Per capire Se Non ho capito Dalla prima divisione Puoi scendere L'ultimo slot Di questa prima divisione Puoi droppare E chi si qualifica Il final slot In ogni conferenza Would be reserved For promotion And relegation From the Tier 2 System In ogni conferenza We believe This provides A clear path To pro And expands Players' Opportunities To compete At the Tier 1 Level After these changes There would be Five leagues In our Tier 1 Ecosystem The Americas APAC The LEC LCK And LPL There are more Details on these Changes In our LOLesports.com Article Speaking of International tournaments From each region Play Using a version Of Fearless Rissento un'ultima No Sono più piccoli Perché ci sono Meno squadre Però ragazzi Vi chiedo Cioè Le squadre Che verranno tolte Hanno comunque Fatto un investimento Per Per essere in LEC Hanno pagato Per lo slot Ricordo Come va a finire Per quelle squadre Che verranno tolte E come vengono scelte Le squadre Che andranno tolte Da ogni Lega Cioè Non sto capendo Rimangono solamente Quelle più famose Rimangono quelle Che hanno più Cioè Se io vado a pensare In Europa Ragazzi Ora Vi chiedo una roba Ripaga il gettone Il franchise Allora Cos'è servito E soprattutto Se io vado a parlare In Europa Dovrei Vediamo Solo per vedere Un attimo le squadre Cioè Di quanto Di che calo Stiamo parlando Di due squadre Che vengono tolte Ne togliamo due O ne togliamo quattro I K-Corp Che sono appena entrati Esempio Cioè Comunque Anche là Dove sta I buy Questo qua Sono due robe Di streamer Che portano un casino Di fanbase Cioè Devono valutare La fanbase Overe a gente Che è lì Da una vita Mamma mia Che roba Allora Ho il cazzo In mano Voglio capirci Di più E Mi date il link Ragazzi Loli eSport Per leggere Delle robe O c'è sotto Vediamo Unified split schedule For all leagues Ok La schedule è unificata Per tutti Quindi giocheranno tutti Nello stesso periodo Nuova vendita nazionale Fearless In tier 1 play Multimension leagues In Asia Pacific In America Ok Experiment Slot promotion Relegation In tutte le leghe Come leggere Ho bisogno di capire Sta roba qui ragazzi Che non capisco Dove andare a trovarla Perché bisognerebbe Leggere tutto il cazzo Di articolo di merda New business model Quindi il succo è Meno gente Più entrate Per i team Che rimangono dentro Quindi i team Avranno comunque Dei soldi Finalmente Avranno un po' Di entrate umane Giocatori probabilmente Pagati di più Il livello Delle minor Aumenterà A livello Exponenziale Perché i giocatori Ragazzi che giocano In LEC Vuoi o non vuoi L'America Intanto si becca Multiplayer Che ora giocano In LEC Che vogliono rimanere In major Non vogliono giocare In minor league Vanno a giocare in America Quindi il livello Medio americano Sale di brutto 100% Ma aumenterà Anche il livello Probabilmente Dei giocatori Dei team Che giocano In Eumaster E delle leghe E delle leghe Così Ovviamente Divanterà Lo spagnolo Il tedesco Il francese Sicuramente Un paio di giocatori Umani Ti vengono giù C'è l'appo in chat Ho solo una roba Da Tutto il resto È abbastanza È abbastanza chiaro Quest team slot Però è solo Un'idea Con stream Multilanguage Broadcast Non riesco a capire Non riesco a trovare Quel punto In caso ragazzi Me lo vado Me lo vado A vedere For il live Più avanti Oh Ho un avvenuto A me che decidi Per destruire l'America E state We can experiment With innovation That our Structure Will and low Ah ok Quindi usano l'America Per testare le promozioni E il drop Dalla prima lega I migliori team Tier 2 Competeranno In un torneo di promozione Per andare in prima lega Ho capito Ma il tier 2 System Sono le minor league Americane C'è C'è una speranza In futuro Che testando Questa roba qua Il primo team Dell'Eumaster Vado a giocare Contro l'ultimo team Dell'Hack Stanno testando questo Ok Sono in America Per il momento Qua fai rivivere Tutto ragazzi Se veramente Allora È un È un cambiamento Enorme Ragazzi E credo Che farai Fai rivivere Completamente L'eSport Con sta roba qui Ma ha un livello Incredibile Se veramente Ragazzi Ti aprono lo slot Se c'è Ci sono Meno squadre Il livello è più alto Con meno squadre In LEC Il livello è più alto Il livello Più basso È più alto Perché la gente Che giocava in prima Deve giocare in seconda Deve giocare sotto Deve giocare in Europa In regional Il livello medio Delle squadre aumenta Che è figa Come roba E C'è addirittura Ragazzi Va a finire Che veramente Iniziano a ragionare Che l'ultima squadra Droppa E sale quella Dell'European Master Tra un po' Ragazzi Vedo Al momento Non è nei piani Però vogliono testare La roba lì È follia Perché poi Vuol dire Che Dà significato A tutto Melita un secondo Dà un significato A tutto Perché al momento La reward Per chi vince All'Eumaster Sono dei soldi Che vuoi o non vuoi Non danno niente Alle squadre Ok diciamo così Perché sì Dai un attimo Di sei felice Come giocatore Perché vinto All'Eumaster Ma dai la visibilità Al giocatore Di dire Forse vado in LEC Sono bravo Blablabla Invece Se tu dai un senso All'European Master Con qualifico in LEC Tu dai un senso A tutte le Major A tutte le Minor E ci sarà un tryhard Ma che c'è Quello che c'era All'inizio Sono contento Questo siamo Davanti al più grande Cambiamento Degli ultimi anni E la novità La novità migliore Che abbiamo mai visto Sicuramente Negli ultimi 6-7 anni Forse anche di più Sono contento Sta roba qua ragazzi Sono contento Tanto tu non puoi giocarmi Fra un cazzo Il nuovo Brightmoon Signori The new Paul Bellezza Paolo Bellezza Come rendere Io che mi chiedo sempre Può Riot rendere Ancora più inguardabili Dev update Signori Ogni giorno Mi dovrò a confrontare Hanno licenziato Brightmoon E io dovrò guardare Il video di Paolo Bellezza Il nuovo produttore Insecutivo Di LOL Paolo Bellezza Dai così Certo sì Oh sta leggendo Vi ricorderete sicuramente Per la panoramica Dei campioni di Wukong Candy King Ivern Show match Di April Fool's Orfitational L'evento di Bilgewater Burning Ties In cui abbiamo Ucciso Gunplank Chi non se lo ricorda Grazie Paul Bellezza Uno dei primi dieci Sviluppatori Di League of Legends Questo è passato Da essere Con tutto il rispetto Per chi mi sta volando È passato Da sviluppare League of Legends A lavorare su Eventi di gioco Skin E negozio Eroico Ah ho capito Ha fatto tutto Non sanno più Dove metterlo Capito Oh Arcane Wildrift Valorant Probabilmente Non sanno più Dove ti alleggano Ma andiamo a fare i video Con Meddler Sicuro Ezio Ci scommetto Quello che vuoi Non sanno cosa farli fare Oh Eroico 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 È figlio di qualcuno Di importante Perché Ha detto Meddler È incredibile Sentite Eroico Grazie Grazie Paul Eroico 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 Vanguard Capolavoro Mastery System Non mi interessa Swarm Modalità nuova Non mi interessa Arena Non mi interessa Campioni Visual Update Di Malphite E sezione eSport E sezione eSport E basta Capolavoro Roba che può risollevare Completamente un sistema E un settore Scusate Un settore intero Quindi bravo Fatemi un applauso ragazzi A Fammi vedere il nome Eccoli qua Facciamo rivedere un attimo i volti John Needham E Chris Grille I signori I maestri Dell'eSport Eccoli Il Gul di Fallout E Dana White Dell'UFC Ci hanno Completamente Smarfato Presidente of Rio E-Sport È lui il volto ragazzi Il presidente Sono contento Allora ragazzi Aspetta Vi do gli ultimi aggiornamenti Mentre Raido Ragazzi dai Ci siamo presi in giro Un attimo ragazzi Così Fino al 21 Riprenderò Intanto devo trovarmi Penso di finire Sifu Lo so che l'ultima volta Che ho giocato a Sifu Ho spaccato il joystick Abbiamo litigato Ho chiuso la live prima Ho flammato tutti Su Instagram E un chat Nel gruppo Telegram Privato mio Ho litigato con 3000 persone Lo so Tuttavia ragazzi Io sono una persona forte Io sono Quindi Sifu Vedo di giocare Un altro gioco Andrò al 21 E riprendono le live Lack Che ho visto che è startato Quindi sicuramente Andrò a guardarmi un game O anche due Facciamo uno Ogni Forno Non voglio dire uno al giorno Ma quelli interessanti Me ne recupero Quindi questo è il piano Fino al 21 Il 21 Nel caso Elden Ring Dovesse uscire Il 21 Che giorno è? Il 21 è un venerdì Ora abbiamo il problema Che io il 22 Di solito Non è un sabato Vedrò In quella situazione Se esce Tipo il 21 Di notte Vado live di notte E faccio la tirata Fino alle Al giorno Cioè faccio run Maratona Finché non finisco Elden Ok Signori E Grazie a tutti.